Dopo rinvio della partita con Brindisi, che sarà recuperata mercoledì ad Esio, la pallaganestro Cantù affronta la seconda trasferta consecutiva. La prima, esordio in campionato, è andata male con la bruciante sconfitta a Orzi Nuovi. Domenica le 16 i Brianzoli saranno di Scenarieti, ospiti della Real Sebastiani. Cantù sfiderà una delle due capoliste del campionato, visto che i Laziali hanno iniziato la propria stagione battendo sia a Piacenza che a Vellino. Ci aspetta sicuramente una partita complicata, ma d'altronde come lo sono tutte in questo campionato, ha spiegato la vigilia Nicola Brienza, allenatore di Cantù. Venite una squadra che porta avanti un progetto da anni con lo stesso coach e un gruppo di giocatori confermati della stagione passata e che in estate si è ulteriormente migliorata, aggiungendo altra qualità ed esperienza al roster. Dopo la trasferta a Laziale, mercoledì alle 20.30 poi, come detto, il recupero con Brindisi ad Esio. La gara era stata rinviata per l'incidente all'aeroporto di Oriol Serio, che ha bloccato l'arrivo degli avversari. Pallacanestro Cantù informa che i biglietti emessi per la partita del 2 ottobre saranno considerati validi per l'accesso al paladesio. Coloro che fossero impossibilitati ad assistere al match potranno poi richiedere il rimborso del tagliando.